Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero «Questa parola è dura, chi può ascoltarla?» Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro «Questo vi scandalizza?» «E se vedeste il figlio dell'uomo salire là dove era prima, è lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla, le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita, ma tra voi vi sono alcuni che non credono». Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito, e diceva «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre». Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai dodici «Volete andarvene anche voi?» gli rispose Simon Pietro «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che Tu sei il Santo di Dio». Pace e bene, fratelli e sorelle. La ventunesima domenica del tempo ordinario, quasi a conclusione della nostra riflessione sul mistero del pane di vita, grande discorso di Gesù proclamato a più riprese nella liturgia delle scorse domeniche, ci fa riflettere particolarmente sulla professione di fede, a partire proprio dalla manifestazione solenne di fede dell'Apostolo Pietro. «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che Tu sei il Santo di Dio». Pietro non parla solo per sé, dice «Noi abbiamo creduto e conosciuto». Si prende quindi la responsabilità dei suoi compagni, potremmo dire si prende la responsabilità della Chiesa presente simbolicamente nel gruppo degli Apostoli. Il contesto del brano evangelico è un contesto difficile perché spinge gli interlocutori di Gesù a fare una scelta dopo la sua manifestazione. Credere o non credere alle sue parole, stare con Lui o non stare con Lui. certo è che la Sua parola viene ritenuta dura, difficile. Ecco perché il Vangelo ad un certo punto evidenzia il fatto che da quel momento molti dei Suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con Lui. E di fronte a tale scenario, Gesù si rivolge direttamente ai dodici chiedendogli se anche loro avrebbero voluto abbandonarlo. E' il momento dunque della scelta, un momento che prima o poi tocca a ciascuno di noi. Anche Giosuè, lo ascolteremo nella prima lettura, metterà le tribù di Israele di fronte ad una scelta. La parola di Dio di questa domenica è forte anche per noi carissimi amici perché viene chiesto anche a noi da che parte stare. Ci viene chiesto di scegliere o chi scegliere. Sentiamo nelle nostre orecchie anche noi le parole di Gesù che dice «E voi che fate? Volete andarvene anche voi?» E allora riflettiamo. Lontani dal Signore, dove possiamo arrivare? Che cosa possiamo fare? Dove andare? Dove riporre la nostra fiducia, le nostre aspirazioni, i nostri sogni, le nostre attese, le nostre speranze? Un cuore umile non può che aprirsi e trovare una via proprio nell'atteggiamento di Pietro. Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Lasciamoci raggiungere e rinnovare. Allora, carissimi amici, da questa parola lasciamoci ispirare perché tutti i nostri passi si muovano nella giusta direzione, nella direzione di un autentico atteggiamento di fede, quello che porta a credere e a conoscere che il Signore è Dio, il Dio anche della mia storia, anche del mio tempo. Pace e bene e buona domenica a tutti. Allora, carissimi amici.